Davide non morì non per qualche sacrificio che fece, per qualche confessione che fece perché non si confessò, anzi continuò a ergersi da giudice, non confessò al proprio male, semplicemente fu per grazia. Ovviamente ci fu un castigo che durò fino alla morte di Davide, persino quando stava sul letto di morte il castigo proseguì. E allora il Signore tramite il profeta gli dice tu non morrai, però ti toglierò il figlio e poi non mancherà mai nessuno dentro casa tua. E quindi quando noi leggiamo nel verso 3 di Ecclesiaste qui è Salomone che scrive Non affrettarti a partire dal suo cospetto ed anche non presentarti a lui con qualche cosa malvagia perché nell'antico Israele ci si presentava davanti al re per ricevere giudicio e giustizia. Ma anticamente poi arriverà Machiavelli, ne abbiamo già parlato e questo cambierà. Anticamente si richiedeva che il giudice avesse un cuor saggio, quindi savio, puro, santo, onesto. Poi con Machiavelli tutto questo cambierà, ma ancora prima di tutto questo lo ritroviamo nell'antica Mesopotamia con Sargone e quant'altro. Di questo domani dovremo fare un video perché ha a che fare con Israele, con il semitismo e così via discorrendo. E poi dice nel verso 4, perciò che la parola del re è con imperio, e si è autorevole la parola del re, è con imperio. E chi gli dirà che fai? Chi osserva il comandamento non proverà alcun malvagio accidente. Cioè chi si attiene alla legge, nell'antichità promulgata dal re, ma ancora prima del re, dal Signore, nella sua parola, gli andava bene, non andava incontro a accidenti, ovvero, non sto dicendo questo, che le cose non capitano, le cose capitano a tutti. Piove sul giusto, piove sul lempio, sì, ma non ti accadrà nessun accidente mandato da Dio. Perché, come abbiamo potuto udire, a Davide Dio gli disse, non mancherà mai nessuno nella tua casa che si sollevi contro di te. Quindi sono degli accidenti mandati dal Signore. E poi prosegue E il cuor dell'uomo savio conosce il tempo e il buon modo che si deve tenere. E quindi per ogni tempo, per ogni situazione, e aggiungo io, per ogni posto dove ti trovi, c'è un modo di agire piuttosto che un altro modo, un modo di camminare piuttosto che un altro modo. Alle volte una situazione o un tempo richiede non rispondere, altre volte richiede rispondere. Alcuni ambienti richiedono una evangelizzazione attiva, altri ambienti richiedono una evangelizzazione passiva. Qual è la differenza? L'evangelizzazione attiva, io la chiamo così, me lo so appena inventato, sto termine. Ebbene, abbiamo coniato un nuovo termine nella nostra scuola di pensiero, tra virgolette. L'evangelizzazione attiva è quella che tu prendi la persona in maniera attiva, gli proponi la fede. Quella passiva, invece, che è quella che io utilizzo molto nel lavoro, almeno attualmente, è quando ti accorgi che l'ambiente è ostile, e quindi se tu gli proponi Cristo in maniera attiva, cioè glielo annunci, avrai un irrigidimento. E quindi c'è l'evangelizzazione passiva, cioè gli fai vedere il comportamento, loro vedono, e loro stessi conoscono e dicono, quello è cristiano, quello è evangelico, quello non fa queste cose, quello non fa queste altre cose, qualcuno ti chiede qualche cosa, e così via discorrendo, qualcosa nasce, la maggior parte non parlano, ma vedono, osservano e parlano fra di loro, e tu poi le cose le vieni a sapere. Quella io l'ho appena inventato, è quella che io ho appena definito evangelizzazione passiva. Siete d'accordo? Ho detto una sciocchezza. Se ho sbagliato, correggetemi. Potrei proseguire e seguire leggendo il resto, però penso che il tempo stringe. E quindi mi fermo qua, cari amati. Io vi ringrazio, cari amati, per aver seguito il podcast fin qui. Spero che questo podcast sia stato di edificazione per l'ascoltatore. Quindi io vi saluto, cari amati, pregate per me. Vediamo se domani, domenica, riuscirò magari a fare un altro podcast, non lo so. Dio lo sa. E comunque, se il Signore vorrà, ci si rivedrà, non so quando. Quando tornerò, non lo so, quanto ci vorrà, se mai tornerò. Perché la vita e la morte è nelle mani del Signore. Baruch Hashem. Il Signore vi benedica e con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Shalom. Mara Natà.